Sul far della sera le luci delle auto si indirizzano all'incontro tanto atteso e la notte dei mondiali. Sì, mi sono preparato bene, adesso l'appuntamento che mi serve, l'unico appuntamento che c'è per la mia vita, c'è per la mia vita e non devo perdere, non devo perdere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.